Dal trattato sul purgatorio di Santa Caterina da Genova Conformità alla volontà di Dio e felicità Le anime del purgatorio hanno la loro volontà in tutto conforme a quella di Dio A lei Dio corrisponde con la sua bontà ed essi sono felici Perché la loro volontà è purificata dal peccato originale e attuale Quanto alla colpa, le anime riacquistano la purezza della prima creazione Perché hanno lasciato questa vita dolendosi di tutti i peccati commessi Con l'intenzione di non commetterne più Per il dolore che provano, Dio perdona subito la colpa E così alle anime non rimane altro se non la ruggine e la deformità del peccato Che si purifica poi nel fuoco attraverso la pena Queste anime purificate totalmente da ogni colpa e unite a Dio per volontà Vedono Dio in maniera chiara e proporzionale a quanto Lui fa loro conoscere Nel vedere quanto è importante la fruizione di Dio e che l'anima è stata creata a questo scopo Trovano una conformità tale che le unisce a Dio Conformità che tende a realizzarsi per l'istinto naturale che spinge l'anima verso Dio Che non si possono dire ragionamenti Figure né esempi sufficienti a chiarire questa condizione Come la mente, cioè l'avverta nei suoi effetti E la colpella del sentimento interiore Questo subito non prende pausa, questo è un primo paragrafo Perché la Santa dice delle cose evidentemente molto importanti Niente di nuovo rispetto alla Santa Cristina Cattolica Come sapete questa è una Santa canonizzata Quindi significa che quando una persona viene canonizzata Gli scritti sono stati passati al vaglio dalla Santa Sede E sono stati quantomeno riconosciuti Non avere nulla di contrario al figlio Allora, la prima cosa che dice Le anime del purgatore anzitutto hanno la volontà del tutto conforme a quella divina Anzi, sono unite a Dio, aggiungi per volontà Che è la forma di unione più importante che si possa avere E la volontà è unita a Dio Perché? Perché sono morte Questo lo dice chiarissimamente Dolendosi di tutti i peccati commessi Con l'intenzione di non commetterne più Ecco la cosa loro fondamentalissima E per il dolore provato Per i peccati commessi Dio ha perdonato la colpa Quando ancora erano sulla terra E questo è bellissimo Dio perdona solo a chi si tenta A chi prova dolore E il sentimento autentico solo quando è unito all'intenzione di non peccare più Questo non dimentichiamolo mai Passato questo però rimane Come ben spiega La ruggine e la deformità del peccato E questa si purifica E fuori attraverso la vita Ecco perché è indispensabile Passare del proprio errore Qualora evidentemente non si sia fatta Una già sufficiente purificazione in vita Attraverso l'accettazione delle bene, delle prove Andare da Dio E l'imposizione Per l'amore di Dio Da parte di se stesso Da parte del peccatore Di penitenze più o meno Alleguate, significative Anche in purgatorio C'è una visione di Dio Attenzione che però viene distinta Questo è un termine tecnico Dalla fruizione Fruizione è anche Un modo per definire la visione beatifica Fruizione significa Il godimento della visione beatifica Ecco ho detto in altre parole Quindi il godimento della visione di Dio per essenza Questo ovviamente il purgatorio non c'è Se non sarebbe più purgatorio Questo fa scomparire tutte le bene E fa dimenticare tutti quanti i dolori Però c'è questa progressiva Questo progressivo avvicinamento a Dio E che già produce Gli effetti meravigliosi Non si possono dire ragionamenti Né figurano esempi sufficienti A chiarire questa condizione Pur essendo nella pena È una condizione Però Queste sono anime salte Sono anime salvate Bene Secondo paragrafo di oggi Fame, pane, disperazione e speranza Un esempio Poniamo che in tutto il mondo Non ci sia che un unico pane In grado di togliere la fame E che tutte le creature Si salsino Anche solamente per vederlo Ora, la creatura Cioè l'uomo Ha l'istinto di mangiare Quando è sano Se si non mangia Se non si ammala Se non muore Quella fame crescerà sempre di più Perché non viene meno Un istinto Lui è contento Perché conosce il pane Che lo può saziare Tuttavia per il fatto stesso Di non avere la disposizione Non può togliersi la fame Ecco qua Questo è l'inferno Che vive Chi ha una grande fame Più l'uomo Si avvicina al pane Senza poterlo vedere Più si accende Il suo desiderio Naturale Che istintivamente Tutto è rivolto A quel suo pane In cui consiste la felicità La certezza Di non vedere mai Quel pane È per lui L'inizio Dell'inferno Vero e proprio Quello che vivono i dannati Privati Della speranza Di contemplare Lo ventico pane Dio è stato Le anime del purgatorio Invece hanno fame Sì Perché non vedono Il pane Di cui potessero nutrire Ma conservano La speranza Del momento In cui potranno Vederlo e saziarsene Completamente La loro pena Consiste Nel poter soddisfare Subito La fame È chiaro Che lo spirito Punificato Non trova Altro luogo Che Dio Per riposare A tal fine Infatti è stato creato E il peccato Dell'anima Non ha altro luogo Che un inferno Secondo l'ordinamento divino Nel momento In cui Lo spirito Si separa dal corpo L'anima Se si diparte Il peccato Mortale Raggiunge Il luogo Prestabilito Guidata Dalla natura Del peccato Se l'anima Trovano Per sé Nulla di più Adatto Di meno Doloroso Lo stesso Fa la proposito Del purgatorio L'anima Separata dal corpo Non possiede Più la purezza Originaria E accorgendosi Della sua macchia Che non si può Eliminare Se non per mezzo Del purgatorio Si getta In quel luogo Presto e volentieri Se il progetto divino Non prevedesse Di purgare La rugione Del peccato In quell'istante Si genererebbe Un inferno Peggiore Del purgatorio Perché l'anima Si vede separata Da Dio Che diventa Così importante Da far passare Il secondo piano Le pene Del purgatorio Sebbene Come si è detto Questo luogo Si assiede All'inferno Dico il secondo paragrafo Facciamo la seconda pausa Anche qui Ci sono delle cose Molto 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 Importanti Innanzitutto Quell'esempio Molto bello Del pane Uno sa che esiste Sa che è buonissimo Sa che toglie la fame Ma Non può Consumarlo Nel momento in cui Ora È affamato Deve procrastinare Il soddisfacimento Di questo Desiderio Secondo Uno spirito Purificato Va necessariamente A finire In paradiso Mentre Le anime Dannate Vanno necessariamente A finire All'inferno E attenzione Nel momento decisivo Questo lo parliamo Al carerismo È il momento In cui l'anima Si separa dal corpo Perché se si muore In stato di peccato mortale Si va dritti Sparati all'inferno Si si getta Proprio nell'inferno E Santa Caterina Ricorda Una verità Evidenziata Da qualche santo Dottore Che l'anima Ovviamente Non ingrazia Non in stato Di risizia con Dio Se ne va A gettarsi Nell'inferno A parte che segue La natura stessa Del peccato Ma anche perché Nell'inferno stesso Arriva La misericordia Nel senso Che Numero 1 I dannati Sono puniti Meno di quanto Vividerebbero E numero 2 I demoni Non possono Fare Loro Più male Di quello Che si sono meritati Che la giustizia divina Gli permette di fare La stessa cosa vale Per le anime Non ancora purificate Quelle ci si gettano Da se stesse Molto interessante Mandare questa espressione Nel purgatorio Perché Per mezzo Del purgatorio Sarà eliminato Tutto soffio Ostancola La possibilità Dell'abbraccio Definitivo Con Dio Attenzione La separazione Da Dio Quindi quella Che si chiama Tecnicamente La pena Del danno È Talmente Grande Come pena Che fa Passare Il secondo piano Le pene Del purgatorio Che Attenzione Non sono Molto risimili Da quelle Dell'inferno Salvo il fatto Che non c'è La risperazione Si vede Satana Almeno Nel rivolso Un pochino Più avanti Non c'è Il contatto Con l'orrore Contivo Però le pene Sono comunque Grandi Ma più grandi Ancora di esse È la pena Di non Poter Ancora Abbracciare Colui Per il quale Siamo stati creati L'importanza Del purgatorio Misericordia Ma compito Del purgatorio È quello Di togliere La macchia L'anima Sceglie Questo luogo Per trovare In esso La misericordia Che gli occorre Per potersi Mondare Dalle sue La lingua Non può esprimere E il cuore Non può capire Quanto sia Importante Il purgatorio La pena È infernale Ma l'anima Peccatrice La riceve Come dono Di misericordia Perché le pene Non hanno peso Di fronte Alla gravità Di quella macchia Che impedisce L'amore Voglio vedere Chi di noi È capace Di invocarle Qui Le pene Del purgatorio Di chiedere Al Signore Castigami Qui Adesso E donami Anche la grazia Di offrirmi Volentieri Io stesso All'espiazione Di farle Io Le opere Penitenziali La chiesa Si può vivere Ogni anno Il tempo Di quaresima Perché ci esercitiamo E ci alleniamo E poi Chiaramente Non è che facciamo Penitenza Dottanto Quaresima Poi ce la Fattiamo Anche extra Anche fuori E di quaresima E quaresima Sarebbe bene Che il nostro Stile penitenziale Andasse sempre più Incrementandosi Sottoluti I punti di vista Le pene Non hanno peso Di fronte Alla gravità Di quella macchia Che impedisce la E il purgatorio Serve A togliere Quella macchia Infine Sguardo Unitivo Di Dio Che attira E pena Per l'impedimento Vedo che La pena Di quelli Che sono Nel purgatorio È soprattutto Quella Di essere Causa Del dispiacere Di Dio E il fatto Che esso Sia il frutto Di un atto Volontario Compiuto Contro La portabilina Rispetto A qualsiasi Altro Dolore Ma capite Il dolore Più grande Del purgatorio Le anima Dolorate Di aver Dispiaciuto Dio E purtroppo L'hanno fatto Compiendo Degli atti Volontari Dico ciò Perché i purganti Nel momento In cui godono Della grazia Si accorgono Finalmente Dell'importanza Dell'impedimento Che li distacca Di Dio Sono certa Delle mie parole Per ciò Che ho potuto Contendere In questa vita Ogni vista Ogni parola Ogni sentimento Ogni immaginazione Ogni giustizia Ogni verità Mi sembrano bugie Di queste parole Resto più Confusa Che soddisfatta Perché non trovo Vocaboli Più estremi Con cui potermi Esprimere E perciò Taccio Le mie parole Non sono niente Se paragonate A quello Che la mia Mente Avverte Tra Dio E l'anima C'è una conformità Tale che Nel momento In cui il Signore La vede Nella sua purezza Originale Con il fuoco Del suo amore Sufficiente Ad annichilire L'anima immortale Le dona Quell'attenzione Che è sguardo Unitivo Attraverso cui La lega E la tira A sé L'anima Si assorbe In Dio Al punto di negare L'esistenza di altro Nel fuori di Dio E il Signore La tira E la infuoca Continuamente Fino a condurla A quell'essere Da cui è uscita Quella assoluta purezza Nella quale Fu creando Quando l'anima Vede interiormente Che è attirato Dal divino fuoco Dell'amore Sente che il calore La scioglie E ridonda Nella mente Del suo dolce Signore Lei sa Che Dio Non mancherà mai Di attirarla E di condurla Alla perfezione Con attenzione Costante E secondo I suoi piani La pena Delle anime Nel purgatorio Insiste proprio Nel vedere Ciò che Dio Mostra a loro Nella sua luce E di esserne attratte Senza però Poter seguire Quella seduzione Quello slancio Unitivo Che il Signore Ha dato loro Per legarle a sé La percezione Di quanto sia gravoso Con impedimento E l'istinto Che l'anima Di poter essere attratta Da quello sguardo Senza impedimenti Costituiscono La sofferenza Dei purganti Essi Non tengono conto Della pena vera e propria Per quanto Di per sé Sia grandissima Ma danno importanza Al fatto Che si oppongono Alla volontà di Dio Che acceso Da tanto estremo Amore Pure verso loro Le attiva fortemente A sé Con il sguardo Rivino Come se ciò fosse L'attività Principale Due paroline Poi interrompiamo Evidentemente Sia la lettura Che la meditazione Io invito A riflettere Su questo punto L'abbiamo già visto La volta scorsa Senta che prima Ne va da continuazione La pena più grande Dei reali Evolganti Quella Di essere Causa Del dispiacere Di Dio E il fatto Di essere Frutto Di un Complimento Di un altro Volontario Con la tua Volontà Di Dio Questa è Veramente La cosa Più Importante Le mie parole Sono niente Paragonate A quello Che la mia mente Avverte Dice lei E comincia A descrivere Questa conformità Dio e l'animo Che comincia Appunto Nel purgatorio Nel momento In cui Appunto Il fuoco Di l'amore Divino Sufficienti Ad annichilire Un'animo Immortale Da quella Tensione Attraverso cui La lega La tira a sé E accompagna In un processo Di codificazione Nessuno di noi Ha idea Evidentemente Speriamo che un giorno Non dovremmo Perla Per esperienza Personale Del tasso Di sofferenza Che l'anima Ha Pur essendo Felice Qui di nuovo Si nota Diverse volte Mentre deve Affrontare Questo Terrificante Travallo Non tengono conto Della pena Delle propria Per quanto Di per sé Sia grandissima Ma danno importanza Al fatto Che si oppongono Alla volontà Di Dio Ma nel suo tempo Si sono opposte Alla volontà Di Dio E che è acceso E attira Così fortemente Così guardo Di vino Come se ci fosse L'attività Avvicinata Davvero bello E davvero Tanta roba Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.